Avere la miglio in una connotazione, in che modo? Ad esempio, Giuseppe si mette la felpa, lui ha questa felpa, in che modo potrei se io stessi litigando con Giuseppe? Potrei prenderlo, non voglio rompere la mano, lo prendo così piuttosto che lo tiro così, perché in questo modo lo sbilancio e sappiamo che piuttosto che stare davanti a lui è molto meglio se io riesco a stare di fianco. L'ideale è se io riesco ad andargli dietro, questa è la posizione più conveniente per me e più sconveniente per lui, perché a questo punto io posso, e prenderlo così, ma posso anche, mi piace molto, fare così, e quindi lo afferro, l'aggancio per il naso e lo muto giù, lo tiro giù. Quindi, che cosa posso fare con i vestiti? Si possono fare tante cose, ma impariamo le cose più semplici. A cominciare da afferrare per tirare giù, soprattutto se riesco a farlo, adesso non lo faccio perché non voglio rompere, sì, ci hanno un po' liberati, ma se lo faccio di sorpresa, prendo e tiro giù. Grazie a tutti.